Benvenuti a Due Parole con l'Assessore, benvenuto ad Andrea Franceschi, Assessore del Comune di Scandicci, con delega, fra le altre, allo sviluppo economico. Grazie per essere con noi, Assessore. Grazie per l'invito. Dunque, 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 fra lo sviluppo economico, ahimè, verrebbe da dire in questi casi, rientra anche il coordinamento, l'organizzazione, una mano protettiva, vorrei dire, su ciò che sarà il Natale, che ci accingiamo tutti a vivere in modo, è inutile dirlo, molto particolare. Noi come cittadini, ma anche i commercianti. Cosa possiamo dire al momento per quella che sarà la possibilità per i commercianti di Scandicci di dare vita a quel momento importantissimo, lo sappiamo, per il settore commerciale, che sono le festività? Inizio dicendo una vicinanza nei confronti dei commercianti e di tutti quelli che hanno delle imprese, hanno delle attività commerciali, che in questo momento stanno soffrendo come altri, più di altri, perché magari sono chiusi e non possono nemmeno lavorare. Noi quest'anno abbiamo cercato e abbiamo insistito anche in accordo con il sindaco e con le categorie economiche di fare comunque delle attività minimali, che però sono consentite, quindi senza cercare di fare assembramenti o attività varie. Però rendere la città più piacevole, dare un segno di speranza cercando di illuminare in maniera puntuale anche sia le vie del centro, le vie dello shopping e anche i quartieri. Quindi festando l'obiettivo che ci siamo dati è quello di fare delle luminarie sia sul centro città, quindi nell'asse Piazza Resistenza, Piazza Matteotti e Piazza Marconi e via Roma, ma anche negli altri quartieri. San Giusto, Le Bagnese, la Casellina, sia via Donizzetti che via Pisana e quindi Vingone. Quindi cercare di dare una vita e dare un segno di speranza. L'abbiamo fatto in Piazza Resistenza mettendo un albero totalmente illuminato, però vogliamo dare dei segnali. È il segnale che la città c'è e la vicinanza a tutti quegli operatori, perché se qualsiasi negozio spenge la luce è come se una fiammella mancasse in città. Decisamente, quindi possiamo dire che a livello di luminarie non saranno meno dello scorso anno. Anzi, forse mi pare di capire da lei qualcosa in più. A livello di iniziative ci sarà poco da fare, giusto? No, le iniziative non ce le possiamo permettere, mettiamole in questo senso. L'iniziativa più bella che possiamo fare, regalare alla città e a noi stessi, è passare un Natale sereno. Un Natale che anche possa essere un Natale in cui si possano fare acquisti, si possa andare in città liberamente e con minor vincoli rispetto a quelli di una zona rossa. Questo diciamo che sarebbe l'evento più importante che ci possiamo fare, il regalo più grande che ci possiamo fare a noi e agli altri. La situazione, lo stato di salute del commercio a Scandicci, come può essere definito al momento? Il commercio Scandiccese è un commercio che fino a poco tempo fa, era un commercio che reggeva ed era in uno stato di salute medio buono, tenendo conto di tutte le esigenze, di tutte le necessità. Noi dobbiamo far conto e abbiamo anche insistito, anche nelle categorie economiche, anche di trovare un tipo di commercio diverso. In questo periodo, ahimè, va molto Amazon e commercio elettronico e noi abbiamo cercato di rilanciare insieme alle categorie economiche, anche per chi stava chiuso, anche il commercio di delivery, ovvero la possibilità da parte di quei negozianti che erano chiusi di poter fare delle vendite a casa mostrando con le tecnologie che abbiamo a disposizione, quindi Whatsapp, lo sito internet, facendo delle foto e portando a casa le scarpe, i pantaloni o altri vestiti che non si potevano vendere con il negozio aperto. Per quanto riguarda il commercio, noi abbiamo cercato sempre, in tutte le maniere, di sostenerlo, dalla prima all'ultima occasione. Non abbiamo mai chiuso i mercati, li abbiamo tenuti aperti sia dal primo giorno che c'è stata la possibilità, con l'alimentare, abbiamo fatto i salti mortali per far sì che il mercato fosse immediatamente aperto, anche in maniera completa, e poi abbiamo fatto l'iniziativa dello Scandicci by Night durante l'estate. Abbiamo cerchiato di dare una mano agli artigiani con la fiera e quindi cerchiamo di mettere dei piccoli tasselli per quanto riguarda il commercio, però la cosa importante è che nessuno si senta da solo. Da parte nostra non c'è la volontà di lasciare nessuno da solo perché questo è lo spirito di comunità che portiamo avanti e che ci contraddistingue. Perfetto, e con questo messaggio confortante direi ringraziamo l'assessore Andrea Franceschi e ringraziamo voi per averci seguito. Grazie e buone feste diciamo. Certamente.